Vogliamo fare il punto della situazione anche sull'edilizia scolastica, dopo averlo fatto qualche settimana fa sulla viabilità, perché ci stiamo impegnando al massimo anche su questa seconda funzione fondamentale delle province, perché ci teniamo tanto in collaborazione con i presidi, i dirigenti scolastici per cercare di dare risposta. Ovviamente abbiamo bisogno di sostegno dagli organi superiori, perché dai fondi propri quest'anno riusciamo a mettere solamente 650 mila Euro, quindi dal bilancio della provincia per le manutenzioni. Ovviamente abbiamo il sostegno della Regione Campania che ci ha dato 3 milioni e 6 che stiamo definitivamente attuando dopo l'approvazione del bilancio previsionale a fine marzo. Stiamo approvando tanti progetti esecutivi e tanti di questi sono stati appaltati. Per cui inizieremo tanti lavori durante l'estate, approfittando della pausa estiva, delle attività didattiche e daremo una serie di risposte importanti, richieste da tanto. Faccio l'esempio di qualche importante istituto provinciale come il Confalonieri di Campania, il Parmenide di Vallo della Lucania, il Tasso di Salerno, il Vico di Nocera Inferiore, per fare solamente alcuni esempi. Stiamo cercando di centellinare le risorse, mettiamo 100 mila Euro su un istituto, 200 su un altro, 150 su un altro, a seconda dell'esigenza. Ovviamente ce la mettiamo tutta perché ci rendiamo conto che la situazione strutturale, ma anche impiantistica di molti edifici scolastici è grave, però voglio segnalare che dal monitoraggio che stiamo facendo e stesso io sto visitando molti istituti e ce ne sono tantissimi sui quali non si mette un Euro, una lida di soldi per sistemarli, ma secondo me da 20-30 anni. Perché basta fare un'analisi diagnostica e capire che questi istituti di livello provinciale non sono stati manutenuti da decenni e quindi non è che è un problema solamente degli ultimi anni, io dico, mi rendo conto che anche le amministrazioni provinciali precedenti hanno avuto problematiche economiche, disponibilità limitate, risorse, ma oggi siamo davvero ridotti a lumicino. Io faccio un appello anche al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero delle infrastrutture, al MIT che possano sostenere di più le province. Noi abbiamo 138 istituti scolastici, la richiesta di interventi è estremamente elevata, ci vorrebbero altro che 38 milioni di Euro per dare le risposte necessarie. Io ho visitato il Nautico a Salerno, ma veramente siamo in condizioni indecenti, cioè i bagni non sono utilizzabili, ma bagni che non ricevono manutenzione da 20 anni, non è una situazione maturata in poco tempo, però nello stesso tempo riusciamo a mettere in campo questi 3 milioni e 6 che il governatore De Luca ci ha trasferito, riusciamo a fare le gare sul Van Vitelli di Cava per 5 milioni di Euro, abbiamo anche avuto il finanziamento sempre tramite la regione di 1 milione e mezzo di Euro, 1 milione e 5 e 40 per la messa norma antincendio, su 23 edifici scolastici della provincia e anche in questo caso stiamo approvando i progetti esecutivi per fare i lavori durante l'estate. Per cui ce la mettiamo tutta, centellinando le risorse, utilizzando di tutto e di più, ma veramente il mio appello accorato va a chi ha disponibilità maggiori rispetto alla provincia, soprattutto al governo nazionale. Io so benissimo che la regione Campania quest'anno metterà in campo tutto, si finanzierà, come sapete, lunedì scade il PTS, il piano trinale di inizio scolastico che viene aggiornato e finalmente ci saranno dei finanziamenti cospicui a provincia e comuni, soprattutto ai singoli comuni, quindi vediamo come va a finire perché mi pare che la regione Campania finanzi 250 milioni di Euro circa per l'edilizia scolastica quest'anno, quindi progetti esecutivi e dunque quantierabili in pochi mesi dovrebbero iniziare i lavori.